È notizia la citazione di Papa Francesco nella bolla d'indizione del prossimo giubileo 2025 a Roma, della perdonanza e di San Celestino V. È l'ultimo grande dono dell'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, alla città dell'Aquila, dopo i suoi 11 anni di episcopato, che si concluderanno ad agosto. In conferenza stampa, gli arcivescovi Petrocchi e D'Angelo e Quadiatore hanno voluto commentare la notizia che riempie di gioia tutta la comunità. La speranza è il filo conduttore di tutto il documento ed è anche l'anima della perdonanza, ha detto Petrocchi. Questa bolla per lui è una pietra miliare anche sulla strada della perdonanza. Petrocchi ha ribadito che la perdonanza non è un evento locale ma universale perché, indetto da un Papa che è un pastore di tutta la Chiesa, l'Aquila potrà essere inserita nei cammini giubilari dei pellegrini che si recheranno a Roma per il giubileo facendo aprire orizzonti irrilevanti per cui anche la curia aquilana è tenuta a farsi trovare pronta e non solo perché pure la città potrà avere opportunità sociali per tutto il territorio. Sarà l'arcivescovo D'Angelo che succederà a Petrocchi a condurre la perdonanza nel giubileo. Il 29 dicembre anche all'Aquila, come in tutte le diocesi d'Italia, sarà aperto l'anno giubilare senza aprire la porta santa con una celebrazione solenne. Il 7 settembre Monsignor Fisichella, cardinale molto noto e responsabile dell'organizzazione del giubileo inoltre, sarà all'Aquila per un convegno. Serve che cresca la coscienza di questo straordinario patrimonio che la Providenza ci ha affidato, che è la perdonanza di Celestino Quinto. Ora, essere consapevoli significa non soltanto cogliere la profondità e l'ampiezza del messaggio, ma sentirsi chiamati ad essere protagonisti in questa impresa di valorizzare questo tesoro e di metterlo a disposizione degli altri. Siamo molto vicini a Roma, è rientrato in questi cammini importanti, ecco, questo è importante sottolinearlo, giubilei e pellegrinaggi importanti, quindi è un sentiero particolare dove sicuramente tante persone saranno coinvolte e, diciamo così, invogliate a venire, a partecipare e per vivere, ecco, questa spiritualità celestiniana, che è tutta particolare, proprio centrata sul cuore del Vangelo, qual è appunto la misericordia.